Intervento in diretta su Cilento Channel nella serata di ieri del sindaco di Agropoli Adamo Coppola in cui ha aggiornato i cittadini sul lavoro dell'amministrazione ma anche di nuove iniziative. È cominciato il lavoro dei tavoli tecnici per studiare la ripartenza di Agropoli e dopo il tavolo politico che è stato fatto ieri il sindaco si è dichiarato soddisfatto per il lavoro svolto. È stato un tavolo molto entusiasmante perché ho visto il Consiglio senza distinzioni tra maggioranza e opposizione lavorare in maniera precisa per programmare il futuro della nostra città. L'opposizione ha messo da parte le appartenenze a ferma Coppola e c'è stato un bel pomeriggio di lavoro. Sono felice perché quando si lavora con passione e voglia di farlo assieme si dà un bel segnale. Adamo Coppola ha poi parlato delle chiusure del primo maggio e dei giorni seguenti per dare un segnale di un minimo ritorno alla normalità dichiara il sindaco abbiamo deciso di non fare ordinanze per sabato 2 e domenica 3 e quindi le attività commerciali saranno aperte. Il primo maggio tutte le attività rimarranno chiuse però oltre a farmacie, parafarmacie, edicole e pompe di benzina in questa data bar, ristoranti e pasticcerie potranno fare consegni a domicilio e poi questi locali dal 4 maggio potranno anche fare asporto. Infine il primo cittadino ha parlato delle nuove modalità per ottenere i pacchi alimentari che da oggi potranno essere richiesti solo telefonicamente al numero 331 66 01 621 e che del 4 maggio dovranno essere ritirati tramite appuntamento presso la sede di piazza della repubblica direttamente dai cittadini. Ha parlato poi anche dell'iniziativa riguardante il piano di zona ed un contributo per i disabili a cui è possibile fare richiesta. È un finanziamento regionale e si può fare domanda per un contributo a chi nel nucleo familiare ha un disabile con la legge 104. Si sale in graduatoria se il disabile è un bambino, da tenere in considerazione anche il reddito Isee. Ci sono tutte le indicazioni sul sito del comune di Agropoli per effettuare la richiesta, conclude il sindaco di Agropoli Adamo Coppola.